Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova supersintesi. Prima di iniziarla invito tutti a iscrivervi al canale La Scienza in un Click e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere le successive sintesi. Iniziamo lo studio della termologia parlando del concetto di temperatura e degli strumenti di misura e principi che ne sono alla base. Quindi iniziamo lo studio della termologia che riguarda i fenomeni legati a temperatura e calore, che sono due concetti diversi e che spesso si confondono. Quando diciamo che un corpo è più caldo, noi stiamo dicendo che ha una temperatura più alta, mentre un corpo più freddo ha una temperatura più bassa. Ma cos'è la temperatura di un corpo? Per capirlo dobbiamo far riferimento al modello particellare della materia già introdotto. Questo è l'aspetto che hanno, se potessimo vederle, le particelle di un corpo freddo, cioè a temperatura più bassa. Quando un corpo lo sentiamo freddo, temperatura bassa, è perché le sue particelle sono relativamente tranquille, non si stanno troppo agitando, anche se non saranno mai completamente ferme. Quando un corpo lo sentiamo caldo, ovvero a temperatura alta, è perché le sue particelle sono più agitate, ovvero si stanno muovendo, nel caso di liquidi e gas, oppure stanno semplicemente vibrando, nel caso dei solidi, a velocità maggiore. Per cui possiamo concludere che la temperatura è una misura della velocità a cui si stanno muovendo o a cui stanno vibrando le particelle di un corpo. La temperatura è comunque una grandezza fisica che ha un'unità di misura e degli strumenti per misurarla. Gli strumenti sono i termometri. Il modello più diffuso di termometro funziona basandosi sul fenomeno della dilatazione termica, in base a cui in ogni corpo, all'aumentare della temperatura, aumenta il volume. Dilatarsi vuol dire che il volume di un corpo, quando è riscaldato, aumenta. E questo riguarda sia i corpi solidi che liquidi che gassosi. Nei solidi le particelle sono legate in maniera rigida, quindi il fenomeno è poco evidente. Però la sfera metallica dell'immagine, una volta riscaldata, si dilaterà e non passerà più attraverso l'anello. Nei liquidi il fenomeno è più evidente, le particelle sono più libere, il liquido riscaldato aumenta di volume e sale attraverso il tubo. Alcuni liquidi, come l'acqua, si dilatano poco, quindi l'acqua non va bene per costruire un termometro. Altri, come il mercurio e l'alcol, molto di più e quindi sono più indicati per il loro uso nei termometri. I gas si dilatano notevolmente se riscaldati, le particelle sono molto libere e quindi il palloncino attaccato al collo della bottiglia, a seguito del riscaldamento, si gonfia. Il principio di funzionamento della maggior parte dei termometri è basato sulla dilatazione termica dei liquidi, anche se per alcune applicazioni scientifiche esistono termometri a gas. Questo è lo schema di un termometro. Un termometro a dilatazione è formato da un rigonfiamento o ampolla in basso contenente il liquido che si chiama bulbo e deve essere un liquido dove il fenomeno è evidente, quindi non l'acqua. Una volta si usava il mercurio, siccome produce composti tossici, ora si usano altri liquidi a base di alcol dove il fenomeno è accentuato. Il liquido inizialmente nel bulbo, a seguito del riscaldamento, poi sale in un tubicino che deve essere molto sottile. Abbiamo già detto che cosa vuol dire un tubicino capillare molto sottile, in modo che anche una dilatazione piccola risulti in una salita ben misurabile. Occorre ora determinare un'unità di misura e costruire la scala graduata, dopo averne capito il principio di funzionamento, ovvero occorre tarare il termometro, in modo che ci dia dei valori numerici di temperatura. Per fare questo prendo il mio termometro e lo metto a contatto con del ghiaccio mentre sta diventando liquido. Quello è un punto di riferimento fisso, il punto di fusione dell'acqua o di qualsiasi sostanza. Vedo il livello a cui sale e assegno il valore di 0 gradi al livello a cui arriva il liquido. Dopodiché tolgo il termometro dal ghiaccio e lo metto a contatto con dell'acqua mentre bolle, che è un altro punto di temperatura fisso o punto di ebollizione. Il liquido riscaldato salirà, il livello a cui si ferma corrisponderà ad un valore a che assegno di 100 gradi. A questo punto ho due valori fissi, 0 gradi ghiaccio che fonde, 100 gradi acqua che bolle e questo intervallo lo divido in 100 parti uguali, 100 intervallini uguali. Ho ottenuto la mia unità di misura che chiamerò il grado centigrado, centigrado perché l'intero intervallo è diviso in 100 parti. Questa scala così costruita è sicuramente quella di uso più comune ma non è l'unica che esiste. Ne esistono altre due molto usate di cui la prima che vediamo è importantissima dal punto di vista scientifico ed è la scala Kelvin, la quale pone lo 0 in corrispondenza di una temperatura molto particolare che è lo 0 assoluto, che è la temperatura più bassa che si possa raggiungere, ovvero le particelle del corpo sono completamente immobili. È solo una temperatura teorica che non può mai essere raggiunta esattamente, quindi non si può scendere al di sotto. Quindi lo 0 Kelvin si trova a questa temperatura che è circa 273 gradi al di sotto dello 0 centigrado. Quindi se abbiamo una temperatura in gradi centigradi basta aggiungere 273, per l'esattezza anche virgola 15, alla temperatura espressa in gradi centigradi. Inoltre l'intervallo di un Kelvin, che si dice senza grado, corrisponde esattamente a quello di un grado centigrado, quindi è molto facile passare dalla temperatura in scala centigrada a quella in Kelvin. Da un punto di vista di interesse storico, cito anche la scala Fahrenheit, che è ancora in uso in paesi anglosassoni, di lingua inglese. Questa scala fa invece sempre uso del punto di fusione e di ebollizione dell'acqua, però gli attribuisce valori diversi. Il ghiaccio che fonde avrà un valore di 32 gradi Fahrenheit e l'acqua che bolle 212. A questo punto l'intero intervallo risulterà diviso non in 100 parti, ma in 180 parti uguali. Questo vuol dire che l'intervallo corrispondente a un grado Fahrenheit è più piccolo di un grado centigrado o Celsius, dal nome dell'inventore. E stavolta la formula per passare da una scala all'altra, da Celsius a Fahrenheit, è un pochino più complessa. Le due formule, da Celsius a Kelvin e da Celsius a Fahrenheit, sono riassunte qui sotto. La temperatura in Kelvin è uguale a quella in gradi centigradi più 273, se vogliamo, virgola 15 gradi. Quindi l'acqua che bolle a 100 gradi centigradi bollirà a questo valore più 100, quindi 373 Kelvin circa. La temperatura invece in gradi Fahrenheit si ottiene moltiplicando la temperatura in centigradi per 1,8. Dopo aver fatto questa moltiplicazione occorre aggiungere 32. Questa è una sintesi. Se volete vedere il video, o per meglio dire la video-lezione completa sull'argomento, il link è in descrizione, oppure basta semplicemente cliccare in alto a sinistra sulla schermata finale. Alla prossima! Alla prossima!